Certo, e poi sono diversi a seconda dei vari mercati, perché stiamo parlando di tendenze generali e in realtà è molto importante vedere cosa sta succedendo nelle varie aree del mondo, cosa che Fondazione Alta Gamma con la sua ricerca ha fatto, con un test di cui adesso Stefania ci parlerà. Sì, certo, come anticipato la nostra ricerca che è stata fatta a fine 2009 presso gli store manager di 10, una decina di aziende Alta Gamma sui tre mercati, Stati Uniti, Cina, Italia, tre mercati centrali per i consumi di alto di gamma, ha riguardato proprio il test delle ipotesi di lavoro che erano state isolate nella parte precedente di lavoro qualitativo. Diciamo, in generale ci sono trend che sono confermati un po' per tutti e tre i paesi, come quello del valore di cui abbiamo parlato prima, trend invece di cui si è parlato tanto sulla stampa ma sono meno presenti, che vedremo a breve, e trend invece che sono presenti su alcuni mercati e non su altri. Ecco, partiamo da quelli magari trasversali, quali sono? Dunque, come dicevo il tema del valore è un tema che sta emergendo forte sia sul mercato italiano, sul mercato statunitense e sul mercato cinese. Valore, che cosa intendiamo, che cosa ci hanno riportato gli store manager? Ma, anzitutto, in un comportamento d'acquisto che comunque sicuramente vede un consumatore che compra meno e anche meno frequentemente, la ricerca però è quella di un prodotto timeless, è stata usata la parola che non vuol dire necessariamente classico, ma per molti di questi marchi significa un prodotto che ha una lunga vita, che può servire più occasioni d'uso, non necessariamente appunto classico. Poi, questo ovviamente negli Stati Uniti ha voluto più dire un prodotto che si avvicina talvolta anche al casual, sul mercato italiano, è più un prodotto, come sempre, dato la tipologia di cliente, un prodotto che si avvicina più al fashion, però l'idea di questa ricerca di valore sul prodotto è un trend comune. Quello che non si è invece verificato e si vede più o meno dai tre paesi è di un consumatore del lusso che smette di comprare. Certo, ecco, del trading down di cui si è parlato tanto, soprattutto per l'America, mi sembra di capire, almeno sulla stampa, con questi grandi magazzini che hanno fatto degli sconti selvaggi e invece con le grandi griff che hanno cercato di reagire positivamente con le proprie catene di negozi diretti. Ecco, il trading down che è stata una parola chiave molto citata insieme appunto al luxury shame nella stampa nello scorso anno, ecco, queste sono tendenze che hanno avuto effettivamente un valore, secondo la nostra ricerca, solamente sul mercato americano che, come giustamente osservavi, è un mercato dominato dai department store che hanno reagito appunto alla crisi in modo, diciamo, molto intenso rispetto alle reti monomarca dei marchi. Quindi il trading down resta un fenomeno soprattutto americano. E dei nuovi generi di consumatori si parla degli uomini, si parla dei giovani, ecco, ci sono delle differenze sui vari mercati nel peso, nel modo di comportarsi, negli stili di shopping, nelle esigenze? Dunque, per quanto riguarda il cliente, ovviamente osserviamo subito una grossa differenza che ci è stata detta un po' da tutti gli store manager, ovviamente quando parliamo di mercato italiano e mercato americano, parliamo di un consumatore adulto, maturo, laddove nel mercato cinese esiste invece l'ingresso di un consumatore più giovane e anche più affascinato da un lusso che invece sui nostri mercati maturi ha questa dimensione di valore molto forte. Ciò detto, mentre per l'Italia non è stato osservato nessun tipo di cambiamento, né per età né per genere dal punto di vista del consumatore dell'alto di gamma, invece sul mercato americano il consumatore che ha reagito meglio alla crisi sembra proprio essere il consumatore uomo che ha comprato in modo meno prudente rispetto alla consumatrice donna. Resta comunque che il mercato cinese, anche il mercato cinese, è un mercato dominato ancora da consumi di tipo maschile. Dove però stanno facendo anche i giovani anche in Cina o no? Sì, i giovani stanno entrando sul mercato, ovviamente si rivolgono, secondo quanto ci hanno detto gli store manager, soprattutto a categorie più accessibili, quindi a entry price, con un orientamento che è ancora molto legato a un interesse per il logo e per lo status che questo porta, quindi il modello di consumo resta quello che tutti si aspettano sul mercato cinese. Vorrei forse sottolineare ancora un ultimo trend che è già stato citato da Anselmi, ma sul quale vorrei dare ulteriore enfasi, che è l'importanza del servizio. Soprattutto sul mercato americano e italiano non più un servizio standard, ma veramente la creazione di una relazione, c'è stato detto, con il cliente, che vuole veramente essere considerato come una persona in un rapporto uno a uno con il marchio. E anche il consumatore cinese, se non in questa dimensione, sta cercando molte più informazioni, molti più dettagli proprio sull'usabilità del prodotto, sul punto vendita.